Transizione ecologica, approvata la legge sì del Consiglio al nuovo strumento strategico per lo sviluppo sostenibile. Ecco il cinema dei giovani, partito Immagina Florence Film Festival, la rassegna dedicata al cinema indipendente internazionale. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio. È approdata in aula per il voto definitivo la proposta di legge che prevede l'istituzione del piano regionale per la transizione ecologica. Sarà lo strumento strategico unico per le politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile e per il contrasto ai cambiamenti climatici. Il testo è stato approvato a maggioranza con 22 voti favorevoli e 11 contrari. Respinti gli emendamenti presentati uno da Fratelli d'Italia e dal gruppo misto Toscana Domani e uno dalla Lega. Sentiamo le interviste. Abbiamo approvato questo importante atto che è il primo passo per un coordinamento e quindi per individuare anche le persone che ci affiancheranno in questo importante lavoro di raccordo sia con il governo sia con i comuni. E quindi saremo in qualche modo una cerniera sul territorio per accompagnare in tutti gli atti importanti. Mi viene in mente tutta la parte legata al PNRR in una regione che tradizionalmente e storicamente ha già una grande sensibilità sulla parte ecologica proprio per la produzione stessa di energie rinnovabili e quindi non partiamo da zero. Ma con questo atto cerchiamo di mettere in maniera strutturale e programmata tutta la nostra esperienza finalmente a servizio e in rete con tutto quello che è il nuovo panorama che ci chiede l'Europa. E quindi crediamo di avere tutti i numeri per poter partire e fare un buon lavoro di concerto sia con il governo che con le nostre comunità locali. In realtà oggi si è istituita l'ennesima scatola vuota della regione. È l'istituzione del piano, quindi non è un vero e proprio piano, che dovrà andare a contenere tutti quei piani che noi aspettiamo da anni. Io sono qui dal 2015 e ancora aspetto il piano dei rifiuti. Abbiamo visto passare degli adeguamenti sul piano della qualità dell'acqua, ma dobbiamo parlare di piano della qualità dell'aria. Dobbiamo parlare del PRS, che è dal 2015 che non viene fatto, nonostante ci sia una situazione in Italia, ma anche a livello internazionale, che è totalmente cambiata anche causa Covid. E purtroppo, come vediamo ora, anche per la guerra in Ucrania. Quindi abbiamo una serie di tematiche che devono essere affrontate, ma ad oggi ci si limita a fare una cornice di quello che doveva essere fatto già anni fa e che ancora i cittadini stanno aspettando. Siamo in forte ritardo su tutto in questa regione e non abbiamo ancora chiaro come si intende portare avanti tutti questi temi, soprattutto perché abbiamo non solo delle urgenze e delle esigenze, ma perché è stata fatta questo quadro di cui si parlava senza avere dei risultativi a livello nazionale. Perché non era una cosa obbligatoria, era una cosa consigliata, si poteva aspettare. Magari cominciare a lavorare su tutti quei piani che i cittadini aspettano ormai da troppi anni e poi arrivare a mettere tutto insieme. La troviamo molto fumosa, la proposta di legge che è arrivata stamani. Non crediamo che andrà a cambiare al momento assolutamente niente, che non sia assolutamente risolutiva per tutti quei problemi che vediamo sul territorio. Ahimè, temiamo che si dovrà aspettare ancora altri anni per riuscire a vedere qualche risultato o per andare a trattare in quest'Aula quei piani che dall'inizio della legislatura non sono mai arrivati. Noi in questa legislatura non abbiamo ancora trattato un piano. Allora, come al solito la Regione vuole mettersi alla testa della rivoluzione lessicale del Paese aderendo formalmente al piano della transizione ecologica. Dovrebbe essere un piano di programmazione e di competenza del Consiglio regionale che raccoglie e in qualche modo coordina i piani dei rifiuti, della qualità dell'aria, dell'energia, della lotta all'amianto, eccetera. In realtà, purtroppo ad oggi sappiamo manca il piano regionale di sviluppo che è l'atto madre della programmazione regionale. Mancano i piani di settore a cominciare proprio dal piano dei rifiuti. Quindi dal nostro punto di vista abbiamo chiesto maggiore concretezza e soprattutto di conoscere i tempi di realizzazione di questo piano che dovrà essere realizzato anche tramite il contributo di un comitato nuovo tecnico scientifico di 10 membri che avevamo chiesto fosse nominato e fosse messo a supporto anche del Consiglio regionale. Questo ci è stato negato perché si ritiene invece che questo comitato scientifico debba sostenere soltanto la Giunta e quindi anche in conseguenza di questa ennesima chiusura della maggioranza noi abbiamo espresso un voto contrario. Ci riserviamo naturalmente una valutazione nel merito se e quando questo piano arriverà dovendo coordinare per il momento piani come appunto quello dei rifiuti che non esistono. La transizione ecologica è un passaggio fondamentale che è stato ritardato nel corso degli anni e delle legislature nazionali ma mi viene da dire anche per l'Europa. E quello che viene presentato oggi in realtà è una scatola piuttosto diciamo da un certo punto di vista poco significativa di una raccolta di indicazioni che vengono dall'agenda 2030 dell'Europa ma in realtà raccoglie un po' di legislatura esistente, va a togliere il PAER che invece è una pianificazione già esistente senza sostituirla con qualcosa di concreto, con un cronoprogramma o con degli investimenti seri. Infatti è in varianza di costi e non si spiega come possa essere una legge così importante e non essere supportata da un investimento finanziario forte. L'altro aspetto molto critico è che si tratta di una legge intersettoriale molto importante che inverte molti settori dall'energia all'edilizia alle infrastrutture ma non abbiamo ancora il programma di sviluppo regionale che è il documento cardine con cui inizia ogni legislatura. Dovrebbe essere stato presentato a inizio della legislatura del Presidente Gianni e non ce l'abbiamo quindi stiamo facendo delle leggi senza che ci manchi, anzi senza la struttura base che le dovrebbe supportare quindi come sempre navighiamo a vista anche nella transizione ecologica e persino quando siamo in ritardo. Cambiamo argomento. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la relazione sull'attività per il 2020 e per il 2021 dell'autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Il testo della proposta è stato illustrato in aula dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani che ha espresso apprezzamento per il lavoro dell'autorità. Sentiamo l'intervista ad iniziare proprio dal Presidente della Commissione Bugliani. L'autorità per la partecipazione ha reso la propria relazione, il proprio rapporto da prima alla prima Commissione e poi attraverso una proposta di risoluzione all'aula del Consiglio regionale. Si tratta di un report dell'attività svolta negli anni 2020 e 2021 da parte di questa autorità per la partecipazione che si è insediata nel maggio del 2020, un'occasione per acquisire una serie di dati importanti. Ad esempio nel 2021 sono stati finanziati percorsi partecipativi e dibattiti pubblici per oltre 350 mila euro. Sono stati realizzati ben 23 percorsi partecipativi, l'80% dei quali sono stati promossi da enti locali e l'aula del Consiglio regionale ha deciso non soltanto di esprimere apprezzamento per l'attività svolta dall'autorità per la partecipazione ma anche di assumere alcuni impegni che vanno da una parte nella valorizzazione del ruolo dell'autorità stessa, dall'altra nella necessità di adeguare la disciplina della legge sulla partecipazione alle normative di settore, ad esempio i percorsi partecipativi previsti dalla legge urbanistica o ancora dalla disciplina dei beni comuni o anche un allineamento rispetto alla disciplina nazionale come ad esempio il codice degli appalti. Ovviamente cercando di incentivare i percorsi partecipativi anche nei piccoli comuni attraverso lo strumento della formazione che diventa indispensabile per rendere efficaci questi percorsi e per garantire un reale coinvolgimento delle comunità. La norma parla chiaro perché ci sono alcune opere importanti, fondamentali, sul quale vi è un obbligo di attivare il processo partecipativo. Ciò che è strano è che oggi su quella parte della norma invece ci si sia attivati così poco, quindi è evidente che poi anche da parte dei cittadini c'è una tendenza a richiedere questo tipo di supporto. Su questa fase io credo si debba intervenire maggiormente, per cui è un intervento normativo che dovrà mirare senza dubbio a rafforzare questa autorità, dandogli però una efficacia effettiva. L'autorità per la partecipazione è fondamentale per la regione toscana, è fondamentale per mantenere il dialogo con la cittadinanza e con gli enti locali, ma finora se ha funzionato meno di quello che è stato necessario è stato per due ragioni principali. È stata molto poco finanziata, anzi nel corso del tempo definanziata e i processi partecipativi invece necessitano comunque di un contributo da parte della regione per poter essere implementati e soprattutto il fatto che molte volte la partecipazione è stata ridotta talmente all'osso che è stato possibile, che è possibile chiamarla poco più che una comunicazione unilaterale e non verrebbe la partecipazione. Il rigassificatore di Piombino è l'ultimo grande esempio di questi passaggi che non sono andati come dovevano essere. Quindi partecipazione sì, abbiamo la legge tra le più evolute e tra le migliori in Italia sulla partecipazione, ma se non viene alimentata strutturalmente e finanziariamente resta uno strumento che viene sbandierato, non utilizzato e quindi di fatto si riduce a nulla di fatto. Sicuramente occorre fare molto per modificare la normativa, per armonizzare la legge regionale di riferimento con le altre leggi che prevedono la partecipazione, potrei ricordare la pianificazione urbanistica, la gestione dei beni comuni, occorre investire, dare risorse per quanto riguarda la partecipazione. Nel tempo sono venuto sempre più ad apprezzare quello che potrebbe essere il ruolo importante della partecipazione, ma occorre dargli risorse, occorre far sì che vi possa essere una struttura diversa perché manca un vertice per quanto riguarda questo organismo collegiale. Noi esprimiamo tutta una serie di perplessità perché se crediamo davvero nella partecipazione occorrono risorse e strumenti adeguati, ma non è la prima volta che lo dico per quanto riguarda le figure di tutela, gli organismi in genere, perché la regione toscana chiede di modificare le normative di riferimento che in gran parte non sono più attuali. Voltiamo ancora pagina. Le liste di attesa per la sanità sono state l'oggetto di una interrogazione del consigliere della Lega, Landi. L'assessore alla salute Simone Bezzini nella sua risposta ha ricordato che negli ultimi mesi sono stati fatti più interventi programmati di quanti ne siano stati inseriti in lista, con l'obiettivo ovviamente di recuperare. Ad esempio a luglio 2022 ci sono stati 18.500 interventi e 17.000 inserimenti. Il numero di interventi programmati da recuperare a causa della pandemia si attesta attualmente sui 40.000. L'obiettivo ha detto l'assessore di recuperare tutti gli interventi di classe B entro fine anno e quelli di classe C entro il giugno del 2023. Sentiamo che cosa ha detto il consigliere della Lega Landi dopo la risposta dell'assessore Bezzini. Sì, è il grido d'allarme che sta arrivando da parte dei medici toscani e soprattutto dei cittadini che si lamentano del fatto che per andarsi a curare devono andare fuori regione. Abbiamo chiesto all'assessore Bezzini i dati anche riferimento agli ultimi anni, ben sapendo che il periodo Covid sicuramente ha creato delle problematiche, ma questo chiaramente è successo in tutte le regioni d'Italia e se c'è un flusso di cittadini che deve andarsi a curare fuori regione evidentemente c'è un problema sia sulle liste d'attesa sia sulle quote di partecipazione che devono essere date agli istituti privati per curare i cittadini toscani nella nostra regione. Cambiamo decisamente argomento. Sono i giovani i grandi protagonisti di Immagina Florence Film Festival. La rassegna è dedicata al cinema indipendente internazionale che si svolge a Firenze nella scuola di Cinema Immagina fino al 22 ottobre. Il festival, promosso proprio dall'Associazione Culturale Cinema Immagina e patrocinato dal Consiglio regionale della Toscana, è stato presentato al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Ecco, questa è la prima edizione. Abbiamo avuto tantissime adessioni perché vengono cortometraggi e film da tutto il mondo. perché sono regista e da giovane io cercavo sempre una vetrina per farmi vedere e così è successo pensando ora a questi nuovi ragazzi che devono cercare di farsi vedere. E questa è l'idea. Più di 100 opere che parteciperanno a questo concorso, di che genere di opere sono arrivate? Sono tutti i generi. Sono commedie, film drammatici, cortometraggi, documentari e tutti parlano dei temi molto molto importanti perché ognuno parla della propria nazione. La Scuola di Cinema Immagina esiste da tanti anni, dal 94, opera a Firenze ma praticamente è un punto di riferimento per tutta Italia. Tra l'altro con la pandemia abbiamo avuto lezioni Zoom e quindi allievi da tutta Italia. Quindi paradossalmente si è ampliato il bacino di interesse della scuola. Gli allievi della scuola, soprattutto quelli dei corsi di regia, di sceneggiatura e di giornalismo cinematografico, che sono quelli che curo personalmente, sono diventati giurati di questo festival. Quindi loro hanno visto i cortometraggi e i lungometraggi, loro hanno avuto un'idea del panorama internazionale offerto e loro hanno scelto. Quindi praticamente questo festival, noi siamo i garanti in qualche modo, siamo quelli che coordinano, però poi i veri artefici di questo festival sono gli studenti stessi che hanno visto i lavori di altri ragazzi come loro da tutte le parti del mondo che fanno cinema, che cercano nuove strade per raccontare il presente, per raccontare storie e quindi poi hanno creato un programma che praticamente è loro più che il nostro. Ma è un momento di festa, di festa per chi ama la cultura, per chi ama il cinema. È bello sapere che Firenze in questi giorni giocherà un ruolo che è proprio quello del capitale della cinematografia indipendente italiana ed è bello sapere che lo fa insieme a tante ragazze e tanti ragazzi. Questo è un modo anche nuovo, diverso, di valorizzare le sensibilità dei ragazzi più giovani che alla fine valuteranno e sceglieranno anche quelli che sono i prodotti migliori. 100 produzioni che arrivano da tutte le parti del mondo daranno ancora più lustro a un'iniziativa bella che Giuseppe Ferlito ha voluto mettere in campo nella città di Firenze. Insomma sono felice oggi di essere qui insieme alla Presidente Giacchini per questa conferenza stampa e dire che questo luogo è un luogo aperto a chi investe sul futuro, a chi dà nuovi strumenti ai ragazzi e ragazze più giovani e chi li fa sentire protagonisti. E con il cinema chiudiamo questo appuntamento con Monitor Consiglio. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie.